Ciao, sono Umberto Spadafora, mediatore del credito di 24max. Oggi per la rubrica l'alfabeto dei mutui ti parlo della A, acquisto prima casa. L'acquisto della prima casa rappresenta la principale forma di compravendita del mercato immobiliare italiano. Circa il 70% di tali compravendite avviene grazie all'intervento di un istituto bancario che finanzia l'operazione. L'acquisto della prima casa ha una serie di agevolazioni fiscali che prevedono il versamento del 2% dell'imposta del registro anziché il 9% se si acquista da privato e l'IVA al 4% anziché al 10% se si acquista da impresa. Anche le imposte ipotecarie e catastali sono agevolate, 50 euro ciascuna nel primo caso, mentre nel secondo 200 euro ciascuna. I credit specialist di 24max sono a disposizione per guidarti nell'acquisto più importante della tua vita. Arrivederci, alla prossima lettera. Grazie a tutti.